Serie B-Win appassionati Per il posticipo della 32esima giornata della Serie B-Win al Franco-Ossola, il Varese ospita il Novara. È una sfida decisiva per quanto riguarda la zona play-off, con la squadra di Fabrizio Castori che al momento occupa il quinto posto in classifica e arriva dallo 0-0 contro lo Spezia. Il Novara ha ritrovato invece fiducia dopo il 5-1 rifilato al Crotone e sogna ancora un posto per sperare nella Serie A. Rimessa laterale in favore del Varese, Puccino, il pallone dentro, la sponda di testa, attenzione Bagua, prova a girarla, non trova però il pallone sulla sponda di Damonte. Pallone in avanti per il Novara, attenzione Buccarea, Gonzales se ne va, davanti a Bressana, ancora Gonzales, para a terra, portiere del Varese. Ancora la squadra di Castori con questo lancio lungo e Bagua, posizione regolare, Bagua fallisce un'occasione davvero clamorosa. Sul suo piede e Bagua in posizione regolare, non trova la porta. Ancora Pesce, il tentativo per Gonzales, l'1-2, pallone che arriva, Lazzari prova il destro, di prima intenzione. Ancora il pallone verso Lazzari. C'è campo per il numero 20 del Novara, 1-1 con Trost. Lazzari si sposta sul destro, il pallone che gira! E c'è l'1-0, il vantaggio del Novara, 36 minuti di gioco, deviazione decisiva da parte di Trost, che inganna così Bressana. Novara in vantaggio con il gol di Lazzari al 36esimo minuto. Ora Ferreira pinto, lotta con Crescenzi. Riesce ad arrivare su questo pallone, Ferreira pinto dentro per Neto Pereira. In mezzo a tre, Neto Pereira prova il destro, Kozicchi e poi Lisuzzo allontana. Tutto pronto per l'inizio della ripresa, 1-0 dopo i primi 45 minuti in favore del Novara. Ci prova adesso il Varese con questo lancio di Puccino in avanti, il tentativo di testa di Ebagua. Attenzione al destro di Neto Pereira, ci mette la punta delle dita Kozicchi. Il pallone sulla sinistra dove c'è Lazzari, tenta il destro, a fil di palo contro la Bressan. Ancora Varese, Tripoli, il suo tentativo al centro verso Ebagua che si coordina e poi non arriva su questo pallone da Monte. Punizione in favore del Novara, parte Buzzegoli, il pallone che supera poi Rubino. 2-0, 56 minuti di gioco. Ci pensa Rubino che affonda il Varese. Il suo sinistro è vincente, 2-0. Pallone in profondità, il tentativo verso Ebagua col sinistro. Kozicchi si accartoccia sul pallone. Ora Novara che trova Varchi in contropiede, ora Fernandes. Il suo tentativo va sulla linea di fondo, Fernandes pallone dentro, Rubino! Bressan. 2-1, il contropiede del Novara, ancora 2-1. Bruno Fernandes temporeggia, non tocca il pallone verso Gonzales, scora in fuorigioco. Laura Fernandes fa tutto da solo col destro, fuori di un soffio. Ancora il pallone in profondità, dove c'è Gonzales, la posizione è regolare. Ancora Gonzales, tenta il tiro in porta a Bressan con i piedi. Vicino al 3-0 il Novara. Ci prova ancora il Novara in questo finale. Il tentativo di Bruno Fernandes, il suo destro. La parata di Bressan, in angolo, vicino al 3-0, ancora una volta il Novara. Finisce qui, 2-0 per la squadra di Aglietti, che raggiunge il Padova. Settimo posto in classifica, quota 42 punti. E adesso i play-off non sono più un sogno.